L'ex presidente dell'autorità portuale di Napoli ed ex commissario straordinario dell'ente Luciano D'Assatti è stato rinviato a giudizio con altre 13 persone per presunte irregolarità negli appalti del porto. Fra le persone rinviate a giudizio vi sono il dirigente Stefano Porciani, gli imprenditori Anna Unmarino e Pasquale Legora De Feo. Altre quattro persone indagate in qualità di commissari di gara sono state prosciolte. La decisione è stata presa dal gruppo di Napoli Maria Vittoria Foschini al termine dell'udienza preliminare. Il processo comincerà il 30 dicembre prossimo. Al centro dell'inchiesta c'è in particolare la garra per la concessione delle aree dello specchio d'acqua prospiciente e il lato interno del molo martello per la realizzazione di un bacino galleggiante da destinare alle riparazioni navali di proprietà privata.